Sì, grazie. Scusate, sarà un intervento poco organizzato. Sono rimasto colpito da come è iniziato questa mattina i lavori, perché io credo che le parole che ascoltiamo qui dentro abbiano un senso. E stamattina, dentro i saluti dei movimenti e dei partiti che abbiamo invitato, qualcuno ha detto questo. La DC è l'emblema di ciò che c'è da cambiare. A me questo ha colpito tantissimo, perché io avrei voluto rispondere. Perché? Cosa abbiamo fatto in questi anni se non cambiare? Cambiare innanzitutto noi stessi e poi tutto quello che avevamo da fare nell'impostazione, nella politica, nei giudizi che si davano prima di tutto del partito, poi dall'azione del governo e dell'idea che avevamo del Paese. Abbiamo ribaltato questo Paese come un calzino. Abbiamo deciso coscientemente che era necessario, era arrivata l'ora di smettere con il paradigma di San Marino che avevamo da 2005-2008 in avanti. Abbiamo deciso coscientemente di farlo e l'abbiamo fatto. Allora non è possibile sentire questo tipo di intervento e non darne un giudizio. Non possiamo far finta che non ci vengano dette certe cose, perché non giudicare questa cosa significa permettere che questo giudizio si allarghi. Innanzitutto all'interno del nostro partito. E mi dispiace che mio zio, Eleandro, dica quello che ha detto qui pochi minuti fa. Lo ha detto in maniera semplice ed efficace un giudizio a quello che abbiamo ascoltato stamattina il mio collega d'ufficio e consigliere del PSD, Vladimiro Selva. Se veniamo attaccati, diceva, da dentro e da fuori dai nostri partiti, su tutto quello che facciamo, si corre il rischio di annullare tutto ciò che è stato fatto di buono per cambiare rotta. E si corre il rischio di far tornare la nostalgia di ciò che c'era un tempo. Questo detto sinteticamente è molto semplicemente quello che ha detto il mio collega. E io lo condivido in pieno. Abbiamo due fronti di attacco. La difficoltà che abbiamo davanti da affrontare tutti i giorni, tutti i giorni. E se non ci aiutiamo su questo avremo il secondo fronte d'attacco. Quello del rischio della restaurazione. Cioè quello che si dice sinteticamente era meglio prima. Non è vero. Semplicemente è diverso. Però occorre essere seri con quello che ci dicono, con quello che ci dicono tutti, secondo me. Perché non si può far finta di non aver ascoltato certe parole stamattina. E ha ragione il maestro Bianchi. Quando dice, ha letto oggi pomeriggio qua, occorre interrogare le nostre coscienze. Perché è lì, secondo me, e penso anche secondo lui, che si trovano i criteri per l'agire buono, per il servizio. Perché ricordiamoci che dalla testa del partito, all'ultimo aderente, stare qui significa servire. Agiamo da un po' di anni in qua, in assoluta emergenza. E non c'è giorno che non nasca un problema nuovo. Non c'è giorno. In questo clima, però, occorre dare ancora di più. Cioè è ancora più urgente guardare i problemi e le possibili soluzioni, a partire dalla propria coscienza. Semplicemente per un motivo. Perché solo così si riesce a tenere tentativamente, almeno tentativamente, conto delle esigenze di tutti. Lo dicevamo quest'estate negli incontri delle sezioni. C'era bisogno, come il pane, di spiegare le cose alla gente. Innanzitutto ai nostri aderenti. Eravamo nel momento dell'analisi dell'IFP. Sapevamo che si stava discutendo della legge della tassa patrimoniale sugli immobili. sapevamo che stavamo costruendo la legge di bilancio per il prossimo anno. C'è la necessità di spiegare queste cose alla gente. Allora, ci sono due cose che secondo me sono importanti. Un impegno da parte della dirigenza del partito di andare incontro a queste esigenze. La seconda è esattamente ribaltata. L'esigenza di chi ha la responsabilità delle sezioni locali, ma anche semplicemente di chi ha voglia, ha necessità di capirne di più, di organizzarsi. E ci sono stati questi esempi. Ci sono stati almeno due, tre esempi di sezioni che si sono messe d'accordo, si sono consorziate in un incontro chiedendo alla dirigenza di spiegare certi problemi. Molto semplicemente, ma esattamente molto, molto efficace. E secondo me su questo dobbiamo ragionare, se le strutture del partito sono ancora efficaci, oppure bisogna rinnovarle per andare incontro a queste esigenze. Perché lo vedete, i consigli durano sempre di più. Quello di dicembre probabilmente durerà 15 giorni, dal 10 fino a Natale. E c'è sempre più bisogno di stare costantemente sul pezzo. Allora, se c'è l'esigenza da parte della base di poter capire di più, perché io capisco che esista questa esigenza, veniamoci incontro. Non si può fare politica adesso, in questo momento, dove c'è stata l'inversione del flusso del rapporto fra Stato e cittadinanza, dal dare all'avere, senza tener conto di questo, anche in momenti di emergenza assoluta, ne va della persona, cioè ne va di noi. E il rischio è quello che la gente si disaffezioni, non soltanto dalla politica, che è già grave, ma dal proprio impegno nella società, dove uno si deve alzare la mattina e andare a lavorare e non è contento di farlo. Questo è drammatico. Se non si fa questo, ci si allontana dalla realtà, cioè dalle persone e dalle loro esigenze. E ci si allontana anche dalla politica. E succede, allora, di dover ascoltare quello che abbiamo ascoltato questa mattina. L'ADC è l'emblema di ciò che c'è da cambiare. L'ultimo, per finire, sui candidati alla segreteria, perché anche questo, secondo me, è un tema importante di questo congresso, se non altro perché è una novità. Credo che sia un valore oggettivo il fatto che Marco si sia candidato per un secondo mandato. Oggettivo perché è lui il segretario attuale di questo partito. E credo che meriti il nostro sostegno. Lui stesso ha fatto un'analisi seria sul triennio che si chiude in questi giorni. E in questo senso credo che tutti dobbiamo aiutare a migliorare il rapporto fra di noi. Ho fatto l'esempio prima degli incontri dove cerchiamo di capire le esigenze, le motivazioni e le possibili soluzioni intorno ad un problema o alla presentazione di un progetto di legge. Cerchiamo di farlo questo lavoro. Aspetto comunque di ascoltare le parole di tutti i candidati, ai quali però chiedo una cosa sola, estrema sincerità. Grazie.